A 205 giorni dall'insediamento del governo tecnico guidato da Mario Monti, oggi l'Istat certifica la forte flessione della produzione industriale ad aprile, quando di fatto il calo tendenziale è stato addirittura del 9,2%. Nella media dei primi 4 mesi di quest'anno comunque la produzione, certifica sempre l'Istat, è diminuita del 6,6% tendenziale. Quello di aprile è comunque il calo più consistente dal novembre 2009. Per i giovani di Confindustria invece l'Italia è addirittura ai limiti della frustrazione e dice il leader Jacopo Morelli la protesta civile rischia di esondare i rivoli minacciosi ed inaccettabili. È un quadro che lascia poco spazio alle speranze, quello tracciato dall'Associazione dei Giovani Imprenditori, riuniti oggi a Santa Margherita Ligure. 42 aziende al giorno chiudono e stiamo diventando un paese sempre più povero, sempre più diseguale e sempre più spaventato.